buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la vostra anche un po nostra rassegna stampa buona domenica buona domenica 23 di aprile una domenica un po particolare perché immaginiamo ci sia tanta gente che giustamente ha cominciato a vivere questo ponte un ponte del 25 di aprile che vivremo attraverso le notizie come sempre ringraziamo gli amici dei social che hanno già iniziato a seguirci cominciamo subito però senza tema di smentita non tanto con le notizie ma con il meteo visto che appunto oggi domani dopo domani tante persone tante amiche tanti amici sono in procinto di partire se non siano già partiti meteo allora caldo africano in arrivo temperature fino a 30 gradi vediamo quanto durerà però a partire da dopo il 25 perché il 25 di aprile vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi che potrebbe essere un giorno piovoso lo conferma il meteo punto it già domani lunedì 24 primo giorno di ponte se vogliamo di ponte vero potrebbe piovere sulle marche martedì 25 in maniera più insistente anche a carattere temporalesco così vi ho rovinato subito la giornata non ci stiamo su a pensarci troppo per fortuna allora che intervengono le notizie marchigiane con la politica sul nostro sito in primo piano parliamo di elezioni battino questo giovane candidato un'altra ancona per i giovani lo abbiamo intervistato così come stiamo facendo con tutti i candidati la cronaca fidanzati ubriachi litigano e rompono la finestra della vicina risveglio da paura per questa anziana signora una vicenda che si è verificata nelle prime ore di ieri quando la squadra volante è dovuta intervenire litigio tra fidanzati ubriachi che però ha visto il danno provocato per la vicina le notizie abbiamo tante edizioni online ma anche cartacee partirei proprio da quelle cartacee perché danno subito il senso delle due tre notizie di primo piano questa è l'edizione di ancona per esempio cari sindaci una città per noi giovani come vedete in pratica è lo stesso titolo del nostro sito segno che questo è il concetto principale che ha espresso il candidato battino di cui abbiamo parlato poco fa siamo sempre sul capoluogo regionale porto nuovo lo chalet che verrà qui sorgerà il nuovo stabilimento dopo il bando europeo del comune i soldi dell'europa insomma messi a sistema nella zona della torre se non sbaglio laggiù sulla destra nella foto ancora i lupi a osimo nella fattoria hanno ucciso quattro mufloni notizia che approfondiremo e poi comics and games in segno e i suoi cartoon l'attore e doppiatore sarà tra gli ospiti della mole van vitelliana vi porto subito ad ascoli e san benedetto ponte del 25 aprile ecco la guida dai musei all'inaugurazione di fritto misto fino alle gite sull'appennino cosa fare nella piceno mi concentrerò molto molto su questo aspetto perché voglio provare a darvi qualche buona vera e buona indicazione su come passare felicemente serenamente questo periodo quindi i musei certamente leno gastronomia altrettanto e poi le gite sull'appennino la notizia però di taglio centrale è questa salvezza rinviata le ali para un rigore ma l'ascoli a como non va oltre l'uno a uno ci siamo ormai è questione di qualche punto adesso non voglio assolutamente gufare però insomma l'ascoli si sta avvicinando al traguardo salvezza a folignano purtroppo questa già ve la segnalo il tema problema dell'acqua acqua giallastra dai rubinetti nasce il comitato di protesta le notizie legate alla nostra direttona vediamo un po di salutare coloro che ci stanno scrivendo che stanno partecipando alla 349 39 18 16 9 buongiorno a cristiana per esempio che ci segue dalla zona della dell'umbria franco 16 gradi da macerata mamma mia 16 gradi di prima mattina dina pergolesi buongiorno anche a te da gaeta un saluto agli amici di bellissima la vita questa firma che ci ha colpito sempre tanto buongiorno anche a chi ci segue da osimo eravamo proprio poco fa ad osimo con questo ennesimo attacco di lupi parlo degli amici di osimo web ancora titoli questa volta dal carlino andiamo al corriere cinque notizie per cinque province raul bova dopo una scorpacciata di anconetanità passa ad una scorpacciata di ascolanità e quindi le olive all'ascolano olive fritte per raul bova al caffè meletti l'attore assediato dai fans sta girando nelle marche un film ha passato alcuni giorni appunto nel capologo regionale ora se lo godono le signore e i signori di ascoli piceno finisce il ramadan e si ubriaca calci alle auto danneggia anche un bus è successo purtroppo nell'anconetano dopo mese di digiuno e di astinenza il ramadan di cui vi abbiamo parlato insomma il ramadan che è terminato si è verificato questo spiacevolissimo episodio macerata ambulanti contro lo spostamento cartelli di protesta sulle bancarelle in realtà è a civita nova che si sta verificando questo spostamento mercato settimanale gli ambulanti dicono no a questo spostamento poi specificheremo dalla zona di macerata quindi civita nova marche sempre una notizia per ogni provincia andiamo nel fermando rinasce il conventino all'ambro i sibillini del dopo sisma scommettono sul turismo green infine il caso delle ricette rosse finisce in parlamento l'intervento di depoli ma la notizia principale è questa purtroppo perde il controllo della moto e finisce fuori strada muore daniele marconi sciarroni aveva solamente 54 anni notizia che tra l'altro abbiamo trovato anche nell'edizione cartacea questa era quella che abbiamo appena visto online con il corriere questa invece che vedete ora è relativa al carlino di macerata la vicenda riguarda questo giovane papà incidente a val fornace perde la vita una quarantenne umbro seconda vittima della strada in due giorni ancora un incidente purtroppo questa volta da recanati auto finisce contro un pullman una donna in gravi condizioni sotto shock la figlioletta di soli dieci anni che ha visto tutto c'è qualcosa che non funziona in questo momento nel rapporto con la guida nel rapporto con il volante io ho ribadito più volte da questo microfono eventualmente anche sbagliando è che c'è tanta distrazione anche a causa di questo strumento e cioè del cellulare aggiungo a queste notizie tristissime la storia di una mamma è successo a livello nazionale di una mamma che involontariamente chiaramente ha investito la figlioletta di soli sette anni è successo nel sud italia trovate la notizia anche sul sito di repubblica ma anche su quello del corriere della sera eccolo qua a napoli bimba muore investita alla guida la madre che ha perso il controllo dell'auto quando ci mettiamo al volante risulterò noioso barboso però l'appello vale sempre quando ci mettiamo al volante consideriamo come diceva il nostro compianto franco grasso che è come se stessimo caricando un'arma questo il modo con il quale franco tendeva soleva dare questa sorta di metafora rispetto alla guida ultimo giornale che manca in ordine di tempo e di spazio il carlino pesarese torno allora alle notizie marchigiane la prima pagina del carlino pesarese è questa qua buon vento michele addio a cinque palmi ha fatto la storia della vela in città e poi cotignola 2 sarà pronta nel 2024 è il nuovo ospedale privato di villa fastigi c'è la firma dal notaio taglieremo la mobilità passiva la mobilità passiva è quella che afferisce alle persone che marchigiane decidono di curarsi fuori regione a spese del sistema sanitario marchigiano e non ce ne dimentichiamo questa struttura privata nella zona di villa fastigi dovrebbe servire per evitare che le marchigiane marchigiani vadano fuori regione a curarsi disarcionato e poi calpestato dal cavallo imbizzarrito fantino in gravi condizioni è successo a fossombrone in soccorso arriva l'eliambulanza vi terremo aggiornati e poi la fontana sporca vedete anche una foto segno del degrado che vince alla baia proteste anche da parte dei residenti 349 39 18 19 tanti messaggi anche dalla zona whatsapp allora buongiorno maurizio ci scrivono buongiorno a voi e poi franco cantarini che su macerata ci manda con grande gentilezza le cosiddette civette cioè quello che trovate scritto davanti alle edicole ma soprattutto ci ha dato un elemento di riflessione cioè il meteo 16 gradi già questa mattina dalla zona di macerata il ponte del 25 aprile sarà spezzato in due perché già oggi si può considerare un pochettino un po un ponte anche se domenica prossime ore si avvicina un peggioramento entro sera sarà pioggia anche sulle marche sarà soprattutto domani lunedì 24 che la pioggia si farà vedere e sentire un po dappertutto pur con temperature molto alte le minime sopra i 10 gradi le massime quasi sopra i 20 tra a cavallo tra i 19 e i 21 ma martedì martedì è il nostro punto debole nostro tallone d'achille perché se si eccettua sul pesarese in zona in cui potrebbe piovere ma non in maniera importante il resto della regione sarà caratterizzato da pioggia anche a carattere temporalesco a partire poi da mercoledì invece dovrebbe arrivare il bel tempo con il recupero delle temperature si parla insomma di quel peggioramento sì ma poi della ciclone anticiclone che porterà temperature molto molto calde calienti un po dappertutto ho dato un'occhiata alle prime pagine del carlino vado a fare lo stesso lavoro per il corriere questa è ancona ripartiamo dal via turisti digitali fai da te alberghi quasi pieni per il ponte questa è una buona notizia resta il nodo della mancanza di personale la soluzione servizi online dal check in all'accesso alle camere diventa tutto high tech i borghi e l'arte sono assi strategici otto mesi per il nuovo marciapiede è già rotto restyling beffa in faccia al comune perché la zona è proprio prospicente alla sede del comune del capoluogo regionale ma io questa notizia già la conosco perché questa situazione c'era stata segnalata proprio da un messaggio al 349 39 18 169 ci avevano scritto guarda che i lavori fatti davanti al comune tra il comune del capoluogo regionale e piazza cavur sono già da rifare questa segnalazione era assolutamente azzeccata ecco la foto che lo conferma finisce il ramadan si ubriaca e si scaglia contro auto e bus purtroppo succede ad ancona lite tra fidanzati che erano in stato di alterazione alcolica dice il giornale si rompe una vetrata anzi hanno sotto shock perché la vetrata era la sua era quella di questa signora che evidentemente non c'entrava niente fabio buongiorno buona domenica buona domenica a voi buona domenica a cinzia buona domenica a carla buona domenica a maria luisa pierantonelli siete voi le nostre amiche amici del buongiorno anche domenicale ci fa piacere salutarvi falconara continuiamo con la prima pagina del giornale marchigiano assicurazione bluff due automobilisti truffati e pure multati oltre al danno la beffa succede a falconara ve lo spiegherò meglio tra poco castel fidardo maxi colpo in una villa i ladri in fuga con loro l'assalto con i proprietari in vacanza bucano la recinzione e poi tagliano la cassaforte non guardo a questo caso specifico e dico in generale quando siamo in vacanza una piccola promemoria vi ricordo ricordiamoci di evitare di mettere foto non è detto che sia questo il caso evitiamo di mettere foto in cui finalmente oggi in questo momento sono a 5.000 chilometri da qua perché purtroppo i ladri guardano anche ai social network non è detto che sia questo il caso ripeto scontro in moto con un'auto una 17enne grave a torrette purtroppo abbiamo raccontato situazioni analoghe anche a macerata eccola qua per esempio schianto in moto muore una giovane papà l'incidente a val fornace perde la vita un quarantenne umbro ci aggiungo sempre sul fronte della guida su due ruote perde il controllo della moto daniele marconi sciarroni 54 anni di san benedetto del tronto ha perso la vita e poi la storia di questo ragazzo 17 anni solamente in serie condizioni a causa appunto di questo incidente vi porto a pesaro ora dal carlino al corriere spiagge ancora in alto mare e dire che appunto c'è il ponte del 25 e ci sono strutture già sold out cioè piene prove generali di accoglienza turistica i ponti di fine aprile saranno il test in vista della stagione intanto il comune ha trovato la ditta per i ripascimenti potrà lavorare con un contratto aperto anche a pesaro dunque problemi problemi che vi abbiamo segnalato pure sul fronte di marina di montemarciano e di senigallia in quel caso per la questione dei detriti post alluvione che trovate sulle spiagge ha fatto la storia delle regate con il cica morto lo skipper cinque palmi lutto a pesaro ancora pesaro la seconda vita delle panchine pop in viale triestre ve le mostrerò la mostra evento sui miti del basket alla pescheria e quindi fanno con il vescovo trasarti che dice sulla sanità non si umili la città a fanno ricordiamo l'appello anche del sindaco seri per il rischio che venga tolta gastroenterologia dal santa croce disarcionato dal cavallo grave un fantino che è rimasto calpestato l'incidente ad abbadia dinaro intorno alle otto trasportato a torrette a costole fratturate succede ad acqualagna stava andando a cavallo nelle bellissime campagne di abbadia dinaro frazione di acqualagna improvvisamente l'animale probabilmente spaventato da qualcosa si è imbizzarrito alzandosi sulle spalle posteriori e disarcionando il fantino che è rovinato a terra poi il cavallo sfortunatamente nella dinamica è finito con il calpestare il fantino abbiamo le immagini eccole qua delle civette da macerata quindi le scritte fuori dalle edicole schianto in moto muore una giovane papà e poi grave una donna la figlioletta sotto shock questa è la la civetta dell'arresto del carlino vediamo se riesco a leggere ancora un paio di messaggi da casine di ostra ci saluta serenella ci saluta anche l'amica liliana buongiorno e grazie vediamo se abbiamo una foto e anche da parte vostra sì buongiorno buona domenica morizio tutti gli ascoltatori mattinieri come me sì in effetti di domenica mattina non è poi così scontato che sia già in piedi la truppa dell'alba del buongiorno tv che durante la settimana con il lavoro con anche le scuole è più attiva inevitabilmente più attiva ma anche di domenica mi pare che ci sia una bella una bella fruizione diciamo così eravamo sui giornali dopo una scorpacciata di aperture del carlino dell'edizione del carlino siamo passati al corriere abbiamo fatto ancona abbiamo fatto pesaro andiamo a ad ascoli san benedetto del tronto turisti pronta l'accoglienza pacchetto per i ponti di primavera ad ascoli tinerari e guide per le visite al ventidio basso e al ponte di cecco attraverso il carlino vi avevo promesso eccolo qui ponte del 25 aprile ecco la guida cosa fare cosa non fare vi daremo qualche dritta per esempio dal palafritto al ventidio tutto fritto 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 come recitava il famoso sketch la vita è bella di roberto benigni andatevela a rivedere una scena bellissima quando lui da cameriere eccetera eccetera ma andate a cliccarla su youtube pronta l'accoglienza vi racconterò qualcosina tra poco di cosa si può fare per questo ponte a como la sfida dei rigori finisce uno a uno l'ascoli pareggia a questo punto è quasi salvo con una vittoria sarebbe stato raggiunto il risultato manca davvero poco oramai ostacolo in pista il primo bike park per amanti del trial ad ascoli san benedetto consigliera in ferie maggioranza salva nel voto di bilancio sappiamo che a san benedetto ve l'abbiamo spiegato più volte a san benedetto c'è un margine risicatissimo per la maggioranza che sostiene il sindaco spazzafumo ad ascoli set in vaso dalle fan e prodotti tipici trionfo per raul bova io ve l'ho fatto anche vedere eccolo la raul bova olive fritte per raul bova al caffè meletti olive alla scolana insomma quello il nome giusto al caffè meletti dove anche tanti altri attori di livello nazionale internazionale hanno fatto un passaggio l'attore assediato dai fan lo conferma anche il giornale san benedetto precettati 73 medici per il pronto soccorso faranno interventi di supporto per colmare le lacune di personale il pronto soccorso san benedettese è in forte carenza di personale e precetta 73 medici provenienti dai reparti dell'ast ascoli per intervenire a supporto del reparto di emergenza un problema annoso quello della carenza di medici su tutto il presidio ospedaliero ma non riguarda solo san benedetto ogni giorno ne parliamo e da ogni angolo della regione arrivano problematiche come come queste vi porto a macerata con il giornale ripassando sempre attraverso i vostri saluti saluti dalla argentina mi pare carolina quella dovrebbe essere la bandiera argentina buongiorno carolina grazie per questo tuo saluto dall'argentina da dove precisamente igor buongiorno patri buongiorno rina del moro buongiorno sarà un buongiorno quello di oggi sì per domani parliamone droga e bivacchi siamo già macerata scatta il blitz la polizia locale con i cani detective nelle strutture abbandonate una serie di denunce e sanzioni allarme per lo sballo tra i giovanissimi decisive le segnalazioni dei cittadini per il tema droga faccio un parallelo tra macerata e ancona ricorderete qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un gruppo di genitori che davanti ad una scuola elementare le maggini di ancona si accolgono di un ragazzo che troppo spesso girava da quelle parti tanto tra genitori bene o male giorno per giorno per giorno si si conosce si capisce anche ad occhio chi centra col giro dei bambini piuttosto che no ecco questo ragazzo che si presentava da quelle parti senza andare a prendere un figlio un nipote segnalazione alle forze dell'ordine pare fosse proprio uno spacciatore allora decisive lo dice anche l'assessore del comune di macerata renna le segnalazioni dei cittadini lube infinita miracolo a milano dopo aver fatto un rimontone contro verona clamorosa rimonta anche qui per la lube in gara 4 da 0 2 a 3 a 2 martedì la bella a civita nuova davvero la lube non finisce mai di stupire la bella si giocherà in casa tolentino abbadia di fiastra il parco della vita è diventato realtà e ne sono molto felice proprio perché ne abbiamo parlato giovedì sera a punti di vista con don rino ramazzoni di questo parco della vita che è stato inaugurato sabato dedicato alle famiglie che abbiano perso un figlio e non c'è dramma più grande più infinito di due genitori che sopravvivano alle proprie creature protesta al mercato di civita nuova ambulanti contrari al trasferimento abbiamo visto sull'edizione cartacea del carlino anche qui intanto il sogno continua pure sull'edizione del carlino abbiamo visto appunto le proteste bancarelle verso il trasloco l'ira degli ambulanti stessa notizia anche sul corriere frontale tra auto e moto muore un centauro quarantenne l'incidente lungo la provinciale a val fornace vittima un ternano che era insieme a due amici ancora sangue sulle strade maceratesi ed è ancora un motociclista a perdere la vita poche ore di distanza dal tragico incidente di camerino ieri a perdere la vita un papà di 40 anni vinicio aristei nato a foligno residente a terni lo schianto con un'auto a val fornace lungo la provinciale re canatese stadio sold out per la sfida con l'ancora una partita che è ben più che una derby re canatese che da neopromossa ha fatto davvero un'ottima performance l'ancora invece che dopo un periodo sfavillante ha imbroccato un periodo nero la sostituzione del tecnico ora c'è donadel sulla panca bianco rossa e adesso questo derby vedremo chi avrà ragione a proposito di derby questa sera non si chiama derby ma ultimamente lo può essere considerato il derby tra juve e napoli derby della giustizia dell'ingiustizia chiamatelo un po voi come vi pare questa sera juve napoli juve chiama culibali infelice al chelsea allegri lo tenta per un affare low cost culibali che dal napoli era passato proprio al chelsea saltando la juventus che gli aveva fatto la corte non è stata una stagione eccellente per il centro fortissimo centrale ex napoli da kim acquara le colonne del napoli che hanno sfiorato il bianconero questa sera alle 20 e 45 se non ci avessero tolto i punti forse adesso ne avremmo 10 in più su bremer decido oggi queste le parole di allegri a proposito di situazioni giudiziarie giuridiche quant'altro è stata tolta ieri la squalifica a lucacu che giovedì o mercoledì mi pare in coppa italia ci sarà proprio contro la juve la fiera del derby questo per un paio di notizie di sport abbiamo detto dell'ascolio abbiamo detto della lube abbiamo detto di recanatese anconitana vi saluto con queste immagini che ci portano in realtà al confine tra marche e abruzzo e la cosiddetta enjoy cup che è stata presentata ieri una grande kermesse di sport giovanile con la giovane ancona protagonista eccolo qua il team capitanato da maurizio lucarini insieme con uno staffa di tecnici anche di genitori che accompagnano i pulcini della giovane ancona a sfidare squadre di settore giovanile tra le quali anche quella di francesco totti la totti school in bocca al lupo a questi pulcini nel vero senso della parola anche fisicamente parlando mirella buongiorno catiuscia buongiorno lucia buongiorno silvana buongiorno grazie siete davvero tante mi fa piacere dovrei essere riuscito a leggere tutti i giornali completo con il meteo per ricordarvi che nelle prossime ore si avvicina un peggioramento entro sera sarà pioggia anche sulla regione marche lunedì e martedì un po così poi la prossima settimana sarà a bel tempo questo anticiclone che ci farà assaggiare un po d'estate grazie a tra poco se avete piacere buongiorno per tutto il giorno grazie 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 Grazie.